Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, e commentare con le tue esperienze personali, in base agli integratori date e assunti, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo l'integratore alimentare Pegastreet. A cosa serve? Pegastreet ha un integratore appartenente alla categoria degli integratori antireflusso gastroesofageo, Marge. È commercializzato in Italia dall'azienda Squabe Pharma Italia SRL. Informazioni commerciali. Titolare. Squabe Farma Italia SRL. Concessionario. Squabe Pharma Italia SRL. Categoria di appartenenza. Integratori antireflusso gastroesofageo, Marge. Forma farmaceutica. Compressa. Confezioni. Pegastreet integratore per migliorare la funzione gastrica. 24 compresse da 1,2 G, 28,8 G. Indicazioni. Pegastreet ha un integratore alimentare a base di estratti vegetali, quali gastro ad amarchio registrato, proteine di soia fermentata da L. Del bruecchi R, 187. Mucosa vea amarchio registrato a base di estratti di foglie di olivo e fico d'india è utile per l'effetto emolliente e lenitivo sulla mucosa gastrica, estratto di broccoli in grado di favorire i processi digestivi e finocchio selvatico. Modalità d'uso. Si consiglia di assumere uno compresse da sciogliere lentamente in bocca, due volte al giorno i pasti principali, fino ad un massimo di quattro compresse. Descrizione e caratteristiche. Pegastreet ha senza zuccheri, con edulcoranti di origine vegetale. Adatto ai vegetariani, vegani, celiaci, donne in gravidanza e anziani. Avvertenze. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Allergeni. Senza glutine, naturalmente privo di lattosio. Contiene soia. Ingredienti. Idulcorante. Mannitolo. Aroma naturale. Vaniglia. Gastro da marchio registrato. Estratto di soia. Glicine Maxmer. Semi. Fermentata da L. Del Bruecchi. Subsp. Del Bruecchi. R. 187. Mucosavea. Marchio registrato. F.G. Estratto di fico indica 1000. Cladovi e foglie di olivo. Olea europea L. Foglie. T. 3,7. 4,3% polifenoli. Estratto di broccoli. Brassica oleracea L. Var. Gemiferite. Capitata di C. Foglie. D-25. 1. Edulcorante. Eritritolo. Finocchio selvatico. Fueniculum vulgare 1000. Semi. O. E. 10% polvere. Amido di mais. Antiagglomerante. Mono. Ed i gliceri di degli acidi grassi. Agenti di resistenza. Fosfato tricalcico. Bamboo. Bambusa rondinacea. È sudato da germogli. 75% di ossido di silicio. Idulcoranti. Glicosi di steviolici. Tallinga 90. Taumatina da taumatococcus danielli. Gomma d'acaccia. Gomma arabica. Grazie per avermi seguito fino a qui. Spero di esserti stato utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento. Ci vediamo al prossimo. Integratore alimentare esaminato.